insieme 2015 riduce dal successo di due anni fa e dell'anno scorso torna questa grande manifestazione iniziativa ad opera è voluta da nicolò di raimondo uno star insieme che vede rappresentate tutte le principali organizzazioni di service che operano nel mondo ma vede anche la partecipazione di qualcuno che quando c'è da fare del bene c'è sempre ed è in prima linea natalie altomonte tam couture allora natalie tu come designer hai sposato spesso la causa benefica è una tua particolare sensibilità che mi ha sempre colpita molto sì credo che dobbiamo tutti in qualche modo in piccolo in grande con le nostre possibilità aiutare chi più ha bisogno soprattutto i bambini in questo caso stiamo parlando di bambini in questo caso parliamo di bambini perché naturalmente l'incasso verrà devoluto in beneficenza per ospedale bambin gesù per la riqualificazione dell'area giochi e poi per salva mamme salva bebè per la valigia di salvataggio natalie anche la tua ultima collezione dedicata in qualche modo ai continenti e secondo me vede un'attenzione anche verso i continenti più poveri e tu hai voluto dedicare un omaggio mettendoli tutti sullo stesso piano la vecchia europa così come i nuovi paesi che si affacciano sui mercati sul mondo si era proprio quello l'intento mettere tutti allo stesso livello la grande america con questi abiti leggeri divertenti l'india che ti vede questa sera protagonista l'europa dunque la vecchia europa cercando di riprendere i disegni che c'erano una volta dell'ottocento dunque fare un percorso a 360 gradi ringraziamo natalie altomonte tam couture per insieme 2015